Decidi di prendere massa muscolare in tre mesi. Appendi un poster di un bodybuilder sul muro per motivarti. La prima cosa che fai per raggiungere il tuo nuovo obiettivo è andare a dormire. Un sonno sano è la seconda cosa più importante dopo il cibo per permettere al tuo corpo di recuperare e sentirsi meglio. Ti servono 7-9 ore di sonno a notte per produrre proteine e l'ormone della crescita umano che va più veloce mentre sei nel mondo dei sogni. Se non dormi abbastanza gli ormoni dello stress possono aumentare. Potresti ingrassare e non farti venire i muscoli. La mattina dopo ti svegli e riposato e un'ora prima del solito per fare la colazione adatta. Cucini delle uova ricche di omega 3, proteine e aminoacidi. Ti servono perché devi costruire massa muscolare magra. Mangi anche una ciotola di yogurt greco senza grassi con frutti di bosco sopra. Ti rifornisce di proteine, calcio e ferro per un'energia di lunga durata. Un frullato proteico ti aiuterà a favorire un afflusso sanguigno ai muscoli e renderà più facile per il tuo corpo elaborare e utilizzare i carboidrati. Arrivi in palestra e fai un riscaldamento prima della tua solita routine di workout. Il tuo allenatore ti ha aiutato a pianificare un allenamento per tutto il corpo, perfetto per i principianti, e include leg push e pull e un esercizio per il core. Ti ha anche detto che dovresti sempre iniziare la tua routine con movimenti composti come squat, row o panca, che coinvolgono molti muscoli contemporaneamente e rilasciano ormoni che vanno a rafforzare i tuoi muscoli. Puoi passare agli esercizi di isolamento quando senti che ti stai stancando. Iniziamo con gli squat, che coinvolgono tutta la parte inferiore del corpo e favoriscono il rilascio dell'ormone della crescita. La massa muscolare ne risente positivamente perché sono esercizi molto impegnativi da un punto di vista fisico. Cerchi di fare più squat che puoi ma ti dimentichi la postura corretta, quindi finisci ogni squat a metà e tieni i piedi uno accanto all'altro. Classico errore da principiante. Non potrai mai ottenere buoni risultati se non presti attenzione a come fai gli esercizi. Potresti anche farti male. I piedi devono essere alla larghezza dei fianchi. Quando arrivi alla parte più bassa del movimento devi stringere i glutei per risalire per la ripetizione successiva. La panca con bilanciere è l'esercizio push della giornata. È perfetto per il petto. I gomiti devono stare a 45 gradi fuori dal corpo. Mentre ti riposi tra gli esercizi racconti al tuo allenatore del nuovo allenamento che hai trovato. Ma ti dice di attenerti al tuo programma di allenamento. Quando cambi costantemente esercizi e fai cose troppo stravaganti non fai che confondere i muscoli. Se smetti di vedere progressi e vuoi ravvivare le cose dovresti farlo con attenzione. Puoi sostituire i bilancieri con manubri, front squat con un back squat o aggiungere un elemento alla tua routine di workout. La cosa più importante non è la diversità ma il sovraccarico progressivo. Quando carichi sempre di più i tuoi muscoli questi dovranno adattarsi e diventare più grandi e più forti. Passi ai pull up. È perfetto per testare la forza muscolare della parte superiore del corpo. È uno dei pochi esercizi che fa lavorare la schiena e i bicipiti. Dovresti essere in grado di iniziare con 6 pull up lenti in postura corretta e arrivare a 12 ripetizioni. Se senti che è troppo facile per te prendi un manubrio e tienilo tra le caviglie mentre vai su e giù. Movimenti fluidi per consentire ai muscoli di adattarsi. Il crunch inverso è il tuo esercizio principale della giornata. Allena tutti gli addominali e quelli bassi in particolare saranno forti e potenti. Vuoi concludere le cose dopo 10 ripetizioni ma il tuo allenatore ti dice che devi davvero stancare i muscoli fino quasi al cedimento. Significa che devi sentirti come se non saresti in grado di finire un'altra ripetizione a causa della stanchezza. Passi a un po' di sollevamento pesi. Devi andarci pesante mirando a meno ripetizioni più controllate piuttosto di molte ripetizioni con peso leggero e comodo. Il tuo amico sta passando e gli racconti dei tuoi progressi. Suona una sirena. La tua palestra è dotata di un sistema di controllo. Non puoi riposare tra le serie finché non sei pronto per sollevare di nuovo. Quando lo fai la tua frequenza cardiaca si abbassa. L'organismo non può rifornire i muscoli che non recupererebbero come dovrebbero. Le tue pause non dovrebbero durare più di 60 secondi. Il tempo che serve a bere un goccio d'acqua. Due terzi dell'acqua presente nell'organismo si trova nei muscoli insieme alle proteine. Quindi se vuoi più muscoli devi bere di più. Puoi capire quanta te ne serve in base a quanto pesi. Hai finito con il tuo allenamento e fai un po' di stretching per completarlo. Lo stretching dopo l'allenamento avvia il processo di recupero. Allunga i tessuti muscolari e ti consente maggiore flessibilità di cui hai bisogno per eseguire movimenti per aumentare la tua forza con una maggiore gamma di movimento che li rende più efficaci. I tuoi muscoli diventano meno tesi e riduci al minimo il rischio di lesioni. Quando allunghi la fascia ovvero ciò che contiene il tessuto muscolare dai ai tuoi muscoli più spazio per crescere. Basta palestra per la giornata. Prossima tappa pranzo. Devi mantenere il giusto equilibrio tra proteine, carboidrati e grassi e anche permettere ai nutrienti di funzionare correttamente. Il tuo corpo decide quali nutrienti utilizzare come carburante, immagazzinare come grasso o utilizzare per rafforzare i muscoli. Quando perdi determinati nutrienti potresti immagazzinare troppe calorie come grassi. Se hai carenza di vitamina E potresti avere debolezza muscolare, mentre poca vitamina A potrebbe darti vertigini e perdita di equilibrio. Inizi con del salmone. È una perfetta fonte di proteine ed è anche ricco di acidi grassi omega 3 che riducono la quantità di insulina nel sangue. L'insulina aumenta l'accumulo di grasso. Il tonno può essere una sana alternativa al salmone con gli stessi benefici. Condisci con un filo d'olio d'oliva che stimola la produzione di proteine e previene il danneggiamento dei tessuti. Permette anche al tuo corpo di classificare correttamente glucosio, aminoacidi e sostanze nutritive. Ordini del tacchino come piatto principale. Il tacchino è ricco di zinco che aiuta la produzione di proteine. Ordini dei broccoli come contorno, anch'essi pieni di zinco. Con del grano saraceno nel piatto, assumi nutrienti e vitamina B6. Aiuta il tuo corpo ad assorbire gli aminoacidi dagli alimenti che mangi. Prendi dell'ananas per dessert. L'altra frutta non ti permette di migliorare molto col bodybuilding, ma l'ananas contiene un enzima che digerisce le proteine. Inoltre ha proprietà antinfiammatorie per venire il dolore e il gonfiore post allenamento. Le mandorle saranno un ottimo spuntino. Sono ricche di vitamina E. Ne hai bisogno per riparare i danni cellulari causati dall'esercizio. Un paio d'ore dopo pranzo decidi di fare un po' di cardio e di andare a correre. Incontri una tua amica che ha dei muscoli pazzeschi e ti dice che non dovresti esagerare con il cardio perché perderai le calorie necessarie per far crescere i muscoli. Ti raccomanda invece di concentrarti sull'allenamento di resistenza. Se il tuo corpo si riprende bene, puoi aggiungere alcune sessioni di cardio HIIT al tuo allenamento. Quando esegui questi esercizi brevi e intensi, la frequenza cardiaca aumenta e continua la crescita muscolare. Torni a casa e segni un record nel tuo diario di allenamento. Metti giù gli esercizi che hai fatto oggi con il numero di ripetizioni e serie. Senza un diario come questo non puoi essere sicuro di cosa funzioni per te e di quanto siano veloci i tuoi progressi. Pesati. Se rimani sempre uguale e vedi i risultati del tuo allenamento, potresti star perdendo grasso e aumentando in massa muscolare. Quindi è più importante monitorare la perdita di grasso corporeo rispetto alla perdita di peso totale. Pianitichi il tuo allenamento per il giorno successivo. Alleni ogni gruppo muscolare due volte a settimana per aiutare i tuoi muscoli ad adattarsi e crescere più velocemente. Fai anche un elenco dei pasti che mangerai il giorno successivo per evitare qualsiasi cibo spazzatura o cibo da asporto. Rimani paziente e coerente poiché sai che la crescita muscolare non avviene dall'oggi al domani. Tre mesi dopo vedi i primi risultati come tutti i principianti. Hai guadagnato 5,5 kg di muscoli. Dopo questo punto i tuoi progressi rallenteranno sì, ma rimarrai fedele al tuo piano e funzionerà.